salve buongiorno a tutti oggi è il 15 di ottobre ottobre sì siamo in ottobre e volevo segnalare appunto che siamo nel ciclo di saturno verso la metà del mese anche dopo entriamo nel ciclo del sole quindi c'è da aspettare un po ovviamente se avete da giocare i numeri sul sole non aspettate perché come avete visto questo mese purtroppo hanno anticipato e e questo è allora io stamattina volevo parlarvi ancora della tavola dei 17 anni la tavola dei 17 anni ce l'ho studiata tanti anni fa poi sono quelle cose che prendi e che accantoni per un attimo perché magari non mi ha dato tante soddisfazioni ma in questo caso la soddisfazione è arrivata perché la tavola erroneamente perché si fanno degli errori non è un errore diciamo che ho voluto fare un po come fate voi giocatori no che dite vabbè io ho quattro numeri ne levo uno e io ho più o meno fatto la stessa cosa la tavola era doppia diciamo e io sono arrivata fino al sole e tutti gli altri pianeti le ho scartati e ho fatto un errore grosso madornale perché la tavola era da calcolare in originale come era scritta io le tavole le trovo sui libri di astronomia ma non solo quella occidentale anche quella araba e quella indiana e le tavole per me sono un pozzo di scienza di che di che di per capire no come come vanno allineati i numeri perché non mi posso fare una tavola da sola così perché mi viene in mente di fare 12345 non funziona così vabbè questa è la premessa ora per farvi capire ieri vi ho fatto vedere il 2 col 4 adesso non mi ricordo più che neanche che terzina era ragazzi c'è no va bene non la trovo niente non ieri vi ho fatto vedere una terzina stamattina ve ne faccio vedere un'altra la tavola del 17 in pratica io vedo che ho realizzato dalle terzine che non è poco sarebbero due oppure addirittura una quartina ma non è un ambo in quartina attenzione questo non è un ambo in quartina perché la tavola mi presenta una volta che l'ho compilata diciamo che l'ho calcolata tre volte c'è un numero che appunto mi deve devo fare divertibile anzi scusate no due volte e quindi devo fare una terzina perché ho tre numeri con lo stesso numero che in questo caso il 34 e ieri era il 20 quindi non posso fare una quartina comunque morale della favola funziona così allora 34 con 43 e 28 il 34 col 43 con l'82 cosa succede succede che io ho controllato il mese di luglio per semplificare avrei potuto controllare agosto comunque in questo caso ho fatto luglio e il 7 di luglio al posto del 28 mi esce il 29 34 43 29 e poi mi esce il 34 43 col a venezia no a venezia il 12 di luglio mi esce il 28 con l'82 che vedete io non avrei vinto perché non avrei giocato il 28 con l'82 ma questo ambo secco diciamo che spesso nelle terzine esce quindi bisogna tenerlo in considerazione però so che voi giocatori cercate sempre di ridurre ora qual è il discorso stamattina il discorso è questo o si seguono le regole per chi vuole ovviamente perché non è obbligatorio per chi vuole i miei numeri seguite le mie regole e se volete seguire le vostre diciamo che forse la quadra la quadra non torna perché funziona così quindi per vincere subito bisogna avrei avrei dovuto fare parliamo di me 34 43 29 34 43 22 34 43 27 34 43 72 e sono sei sestine come dicevo ma non bene allora andiamo avanti andiamo avanti aspettiamo il 34 col 28 che in realtà è uscito un vertibile allora cosa succede succede che se io vi do questo e esce il vertibile voi dovete interrompere la giocata perché quando esce il vertibile fa da da freno da da cosa vuol dire vuol dire che che i numeri stanno ritardando questa è la mia esperienza comunque parlo dei miei calcoli non del lotto tradizionale per me il vertibile diventa un po' un andy a meno che io avrei fatto 34 43 28 82 ci stavo dentro bene con la quartina ma so che voi giocatori le quartine non vi piacciono le sestine non vi piacciono nemmeno le quartine a molti di voi ma sono quelli che fanno fare cassa la cassa vuol dire vincere vuol dire vuol dire vincere costantemente perché perché io di queste terzine quartine ne ho una caterva che adesso non ve le faccio vedere non vi mostro la tavola perché so che me la copiate e quindi non ve la mostro ma veramente ogni ogni tavola che io faccio ne ho una due tre quattro cinque sei allora ne ho sette ho sette terzine per fate fate il conto le tavole ne posso fare quante ne voglio le numerazioni e le le terzine le le terzine si compongono tra un ciclo e l'altro non nello stesso ciclo vabbè queste sono cose tecniche ovviamente se ho la tavola del 17 questi calcoli il 43 esce anche col 17 al 16 luglio su torino poi esce a palermo il 43 27 perché ovviamente passano sul sole e il 43 il 29 il 4 agosto ancora su milano e e poi il 9 agosto a roma il 34 ancora col 28 finalmente e il 9 agosto 34 con la 43 come ambo secco come vertibile sulla nazionale il bello di tutto questo che è stata per me una sorpresa eccolo qua una piacevole sorpresa che non me la sarei mai aspettata anche perché in tanti anni io voglio essere onesta la quaterna mi ricordo che l'ho fatta con la pasqua cosmica due volte in marzo e poi non mi è mai capitato di mettere assieme delle quaterne con pochi numeri perché le quaterne io li ho sempre fatte con la tavola dei numeri speciali mettendo assieme o facendo sempre un sistema che diventa un sistema di 8 7 anche qualche volta di 10 numeri quindi la verità è questa non voglio prendere in giro nessuno cosa succede che se agosto a napoli qua io mi ritrovo non col 28 perché spesso i numeri saltano il numero calcolato e fa la congiunzione con i numeri quelli passati e quelli che devono arrivare adesso magari è difficile un po farvi capire questo ma 6 agosto e io ho lasciato di là l'estrazione vabbè potete controllarlo voi il 6 agosto a napoli è uscito il 34 il 43 il 29 e con il 72 quindi ha fatto un acquaterna esattamente con questi numeri qua che vi mostro vediamo ecco qua il 72 non c'è ma va da solo che bisogna metterlo bisognerava mettere anche il 22 comunque morale della favola il 34 col 43 ha portato fuori una quaterna ora insegnare questa tecnica non si può anche perché questa è una tecnica che uno deve avere tutti quei volumi lì e deve conoscere esattamente dove si prendono i numeri comunque non è diciamo che li pubblicherò come questa mattina lo voglio pubblicare però ricordatevi che il 28 porta fuori sia il 29 che il 27 ovviamente con i suoi vertibili questo vuol dire rispettare le regole dei miei calcoli io parlo di me sto parlando sempre di me di quello che faccio io e vincere anche subito meno ma subito una volta eventualmente che il giocatore alla tavola perché io posso venderla la tavola si è bloccano la posso vendere la prima tavola e le terzine sono parecchie sono tante perché non è che la posso regalare la posso dare con un compenso perché questo un lavoro che mi è costato anni e anni perché poi ho dovuto rifarla 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 per arrivare sempre ad avere il massimo delle delle combinazioni per avere più soldi per guadagnare più soldi no la sestina è pagata in un modo la terzina è pagata in un altro il momento in cui la terzina è garantita e sono due è ovvio che uno preferisce giocare le terzine se poi alla tavola le terzine ne ha quante ne vuole quindi la tavola si può vendere si può diciamo non si può regalare ecco mettiamola così ora potete andare a vedere a controllare potete controllare perché il discorso che io ho tirato in ballo ieri no delle iscrizioni allora io ho aperto quella piattaforma di ramble che ho 66 iscritti 66 che per per fare una lezione ipotizziamo io vi insegno come si trova il le le opposizioni io voglio avere almeno 600 mila persone iscritte come minimo sono le opposizioni non le conoscerà mai nessuno come si trovano vediamo qua eri ne avevo pubblicato uno che vediamo un attimo aspetta eh che ce l'avevo qui a portata di mano beh chiediamo questo allora questa è un'opposizione tra giove e marte e dice ma quanti numeri ma come si fa a giocare infatti si gioca l'undici col diciassette e con i suoi vertigini poi sempre questi numeri per segnalarvi che sono numeri calcolati all'opposizione tra giove e marte escono con l'otto ottanta e il diciotto ottantuno e spesso fanno i termini io lavoro così questo vuol dire seguire le logiche la tecnica e seguire il movimento dei numeri e capire comprendere che l'undici col diciassette è un'opposizione tra giove e marte perché quando si comprende cosa si sta facendo è meglio ancora allora uno dice vabbè ma io come faccio a sapere qual è l'opo infatti non lo puoi sapere perché te lo sto dicendo io stamattina no? io ti sto dicendo giocatore che quando uscirà l'undici col diciassette con i suoi vertibili che è un ambo in quartina vuol dire che è l'opposizione del mille e novecento perché questi sono gli anni indietro non è il calcolo di quest'anno e io per insegnare questa tecnica questa scienza non mi bastano 66 perché me ne basta due su 66 che prendono quello che io ho insegnato si aprono i loro centri di accoglienza e cominciano a sparare cazzate perché non sanno niente di astronomia e vi vendono i numeri quando poi in realtà a me non mi costa niente stamattina dirvi guardate che in ottobre esce sta roba ora io adesso non ho neanche guardato se per combinazione l'undici col diciassette è già uscito no? però vi faccio un altro esempio vediamo se li trovo perché allora questo è un'altra opposizione qua abbiamo il 22 col 19 con i suoi vertibili questi non sono sestine questi sono ambi in quartina sono gli stessi che vi darebbero eventualmente i lottologi che usano fare i conti e che fanno l'otto tradizionale questo non è l'otto tradizionale questo è un altro film allora il 22 il 29 che uscirà con il 18 con l'otto con i suoi vertibili vi segnala che siamo nell'opposizione e spesso queste quartine danno i terni molto spesso questo è il ciclo questo non è il ciclo questo è l'eclissi di sole che ho presentato questo mese che il 25 il 52 lo vedete continua a girare per tutte le estrazioni controllate poi vedete 25 e 52 queste sono le sestine il 4 è la distanza e il 25 io lo prevedo che esca o su Cagliari o ancora su Palermo mi pare che è già uscito su Palermo questi sono gli ingressi delle lune che sono usciti tutti è corretto se dico questo allora insegnare gli ingressi delle lune così io vi posso dare le previsioni a me non mi costa niente sapete quante ne trovo e voglia non avete la prima ho 9.000 anni di 9.000 anni figuratevi cosa esce ovviamente per insegnare questo io voglio avere un popolo voglio essere la presidente del consiglio per insegnarvi tutta questa roba qua voglio essere sì la presidente questo faccio un esempio non mi posso permettere di insegnare questa roba qua così gratuitamente a Babbo Morto in modo che chiunque non conosce un minimo di astronomia preleva questa roba e apre io mi ricordo anni fa quando sono entrata su youtube qualcuno ha preso la tavola del sole e poi ha aperto un gruppo un gruppo in facebook un gruppo segreto e mi ricordo che hanno scritto hanno anche segnalato la tavola ha detto questa è la tavola vera la loro quella che poi hanno costruito loro e le altre sono tutte delle falso la mia era il falso la loro era quella reale quella vera diciamo peccato che avevano tolto il 90 in mezzo perché le quartine escono col 90 avevano tolto il 90 avevano unito tutte le quartine e loro pensavano che la quartina di settembre usciva a settembre invece a settembre esce la quartina di ottobre quindi queste cose non le sapevano poi so che quel gruppo lì un bel po' di gente ha perso un bel po' di soldi giusto per dirvi l'ho saputo perché poi c'era una signora che conoscevo che era entrata nel gruppo e mi ha raccontato dei spilletti che erano estremamente non solo ridicoli ma pericolosi perché come vi ripeto se io insegno questo questo a me è capitato in questi anni in tanti anni un sacco di volte nessuno dirà questo me l'ha insegnato la Marci se qualcuno ha in mente di aprire un gruppo un canale farà diventare propria una cosa che io ho studiato per anni e ti saluto l'inetta e ti saluto l'inetta quindi non mi posso permettere di insegnare a 66 persone non siete nemmeno 100 a parte quelli su youtube che mi seguono in tanti e ho visto che siete a migliaia tutti senza esservi iscritti al mio canale ma questo è un altro discorso io non mi posso certo permettere che a 66 persone insegno questo ma non esiste ma nemmeno se mi promettono la vita eterna io diciamo che la mia generosità mi porta a dirvi signori volete giocare a queste? usciranno nel mese infatti sono uscite tutte volete giocare a questo? vediamo questa eh ah eccola qua questa è queste sono tutte le opposizioni che io ho pubblicato nell'arco di questo tempo potete andare a vedere il 14 uscirà col 7 io non so se è già uscito comunque il 7 con i suoi vertibili mi raccomando poi l'880 il 18 tutti questi numeri usciranno anche quelli che sono garantiti allora questo è uscito il 16 che mi pare col 5 col 61 appena uscito che è un'altra opposizione allora 1962 io ho pubblicato questa che è una quartina uno no una cinquina quindi è l'8 col 9 col 10 l'8 col 9 col 10 anche questo lo vedrete sortire in ottobre questo cos'è tavola dei 17 anni ah ecco questa è la terzina che ho pubblicato ieri quindi va da solo che il 20 col 2 prima esce col 13 e poi col 15 con i suoi vertibili ovviamente quindi sarebbero 4 le le allora o si seguono le regole o seguite le vostre regole che siete ovviamente padroni liberissimi di fare tutto ciò che vi piace con l'8 adesso qua ho perso il filo ah eccolo qua uno dirà sono tanti numeri no basta fare un piano di gioco non sono tanti quando pensate che questa roba qui dà anche le quaterne non sono tanti allora andatevi a controllare il su Napoli il 6 agosto di quest'anno quindi ne vale la pena ne vale la pena avere avere in mano una tavola una delle mie tavole che sono queste che non la mostro ovviamente per nessuna ragione perché questo è oro queste sono tavole che ho costruito e sono state un lavoro molto 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 lungo e molto faticoso è dispendioso anche perché pensate quanti fotocopi ho dovuto fare ho dovuto buttare via un sacco di roba e rifare tutto allora questi sono arrivo eh questi sono gli ingressi delle lune uno uno del un ciclo degli ingressi delle lune e sono esattamente uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci unici due tre cinque tre sono quindici quartine che usciranno tutte o quasi tutte in ottobre e quelle che mancano all'appello usciranno in novembre che saranno magari tre o quattro e lì allora si può caricare la pipa questo vuol dire fare un piano di gioco vi faccio un esempio se voi prendete una di queste quartine che non esce in ottobre non potete spendere tutti questi soldi quindi aspettare che il ciclo finisca quello di ottobre avere le quartine di novembre che non sono uscite in ottobre e caricare la pipa questo vuol dire fare un piano di gioco e seguire e seguire come funziona tutta l'ambara d'ami bene questo è tutto per chi vuole la tavola del 17 mi contattate su whatsapp che non è difficile da usare io vi do l'appuntamento questa sera ciao a tutti e grazie